amici sportivi e di super basket buongiorno da coach dan peterson nostro profilo oggi è di stefano pilastrini un allenatore che ne ha fatto sei promozioni nella sua carriera pila è un nativo di ferrara però cresciuto nel vivaio e anche come allenatore con la fortitude bologna dove è stato influenzato secondo me da diversi grandi allenatori addirittura 88 89 euro diciamo consulente principale anche direttore sportivo della virtus bologna allenatore del nostro squadra juniors ettore messina allenatore della fortitude juniors stefano pilastrini l'anno prima nel 88 e tre messina vita il titolo juniors 89 quell'anno lì stefano pilastrini con la fortitude ne ha vinto quindi un allenatore con titolo juniors con andrea dall'amora un allenatore che è bravissimo a insegnare basket ai giovani non per niente il suo euro camp è uno dei campi più famosi d'italia con più di mille ragazzi ogni settimana perché lì si va per imparare e anche un corso accelerato per quelle che vogliono un masters nel basket lui come coach ha sfornato diversi grandi giocatori tipo andrea dall'amora andate addirittura in nazionale andrea cincerini nazionale pure lui e cincia magari non era quotatissimo come giocatore l'ha preso pilla a montagranaro l'ha fatto giocare quintetto base playmaker e l'ha insegnato la cosa importante di tenere la testa alta e non guardare in basso mentre palaggiava è veramente cincerino in questo è molto bravo tuttora e per questo è un playmaker ripeto che pilla ha fatto sei promozioni allenata un po dappertutto con varese con montagranaro con altre squadre sei promozioni solo come vincere per me sei scudetti perché ha fatto il massimo di ciò che poteva fare al suo livello grande con i giovani grande per lanciare i giovani grande per insegnare i giovani grande uomo di emergenza un allenatore di sos va dove c'è una crisi subentra sistema la baracca pilla è veramente per me in ogni senso della parola un vero grande ok e quindi un coach se tu vuoi fare una promozione stefano pilastrini maestro in materia amici sportivi è tutto per oggi ciao a tutti